Via Rondine, nel quartiere catanese di San Giorgio, era diventata una fiorente piazza di spaccio. La droga fruttava decine di migliaia di euro a settimana, con uno smercio di 20-30 kg di marijuana e di mezzo chilo di cocaino ogni 7-10 giorni. Con l'operazione di polizia, denominata Kiss, la squadra mobile di Catania ha arrestato 6 persone e una è ancora ricercata. Dalle indagini e dalle intercettazioni ambientali è emerso che gli affiliati al clan Santa Paola Ercolano, le vedette e i pusher, si baciavano tra loro ogni volta che si incontravano. Rituale questo, usato proprio dalle famiglie mafiose. È un modello napoletano che abbiamo riscontrato già in diverse indagini, che ormai è solido e costante nella città di Catania. È un modello che si avvale appunto di una cassa comune, di un sistema di vedette, di pusher, che gestiscono quelle che vengono definite comunemente piazze di spaccio. Questa era una piazza fiorente in un quartiere di periferia che finora era emerso relativamente poco rispetto a quelli più famosi di San Cristofo e San Giovanni Galermo.